Questa sera nella Basilica Cattedrale San Pietro Apostolo di Cerignola la cerimonia di ordinazione presbiterale del diacono Michele Murgolo da parte del Vescovo di Cerignola, Monsignor Luigi Renna, il servizio. In occasione della festa patronale della Madonna di Ripalta, nel giorno della memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa, il Vescovo di Cerignola, Ascoli Satriano Luigi Renna, ordina presbitero il diacono Michele Murgolo. La celebrazione eucaristica si svolge nella Basilica Cattedrale San Pietro Apostolo di Cerignola, preceduta dal triduo di preghiere e di riflessione che si svolge nella chiesa parrocchiale di San Trifone Martire. Michele Murgolo è nato nel 1990 a Cerignola, si è formato nella chiesa parrocchiale di Cristo Re, poi nella chiesa di San Francesco d'Assisi, dove è stato impegnato in diverse attività pastorali, tra cui un campo lavoro in Romania, presso la Fondazione Bambini in Emergenza, guidato dal parroco Monsignor Nunzio Galantino, ex segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver terminato gli studi filosofici e teologici nel Pontificio Seminario Regionale Pio XI, Michele è stato ordinato diacono lo scorso 26 dicembre.